ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi un video flash per due motivi a perché oggi avreste dovuto vedere il tutorial sui calci d'angolo ma per il motivo che vi andrò a spiegare a breve me l'hanno sabotato b perché stamattina su fifa è successo il delirio tra manutenzioni aggiornamenti non si è capito niente quindi andiamo a vedere un attimino nel dettaglio con calma tutto quello che è accaduto finalmente è disponibile la modalità dei mondiali la vi abbiamo tanto attesa e desiderata eccola qui vi ricordo che è una modalità separata da ultimate team quindi si gioca con le classiche nazionali sulla modalità calcio d'inizio potete sfidare anche le persone online chiaramente però non potete andare a fare le vostre squadre personalizzate come accadeva invece in passato per esempio su fifa 18 ci avete le esperienze per poter fare le fifa world cup live che sono le partite secondo i gironi che si vanno a svolgere di pari passo fifa world cup invece 2022 il torneo personalizzato calcio d'inizio e la partita randomica torneo online vi andate a fare dagli ottavi di finale tutta la vostra corsa per andare a vincere il mondiale quindi questo per quanto riguarda la modalità dei mondiali che vi ripeto è staccata da foot la trovate su modalità di gioco dal menu iniziale di fifa per quanto riguarda la cosa che ci interessa però di più a noi è il live update perché questi maledetti dalla sera alla mattina hanno fatto una cosa positiva però gliene possiamo dare atto ovvero hanno modificato il gameplay senza che venisse scaricato l'aggiornamento perché l'aggiornamento riguarda solo la modalità dei mondiali e hanno toccato queste tre cose innanzitutto hanno aumentato la riduzione della stamina del 41 per cento per tutte le volte che si va a utilizzare il pressing costante il pressing una volta persa palla e pressing sul primo controllo dalle tattiche personalizzate il che è molto buono perché questo vuol dire che probabilmente vedremo meno gente che spammerà pressing a destra e sinistra per tutta la partita poi vi dicevo che oggi avreste dovuto vedere il video sui calci d'angoli ma il video sui calci d'angoli maledizione io non ve lo posso far uscire più perché perché le hanno depotenziati infatti hanno ridotto la velocità della pallone sui calci d'angolo caricati al massimo e ne hanno diminuito pure la precisione che vi devo dire una cosa che ci sta per carità perché non era possibile che quei calci d'angolo erano praticamente meglio di un rigore però bisogna capire se in realtà questa cosa si applica anche se noi andiamo a battere quasi al massimo ma non al massimo perché se poi in realtà ci basta caricare un pelino e meno è cambiato molto poco quindi lo testeremo e vediamo però quindi questo come recap generale su quello che è successo e vi ripeto vi ho fatto uscire sto video perché doveva uscire quello sui calci d'angoli e invece uscirà questo qua che vi tiene un po' updatati su tutta la situa